E' l'una del pomeriggio quando due auto si scontrano frontalmente. Siamo sulla tangenziale tra Vicenza Est e Torri di Quartesolo. I vigili del fuoco accorrono da Vicenza e mettono in sicurezza le vetture. Vengono anche estratti i tre feriti, una coppia da un SUV e una donna dall'altra automobile. Dei tre feriti, uno è grave. Vengono assistiti dai medici e dagli operatori del Suem 118 a corsi con due ambulanze e l'automedica. Una volta stabilizzati, l'uomo e le due donne vengono trasferiti all'ospedale San Bortolo. La polizia locale ha eseguito i rilievi dell'incidente per ricostruirne la dinamica. Durante le operazioni di soccorso, per un'ora e mezza, la tangenziale è rimasta chiusa.